Incertezza per Perignon prima del via, parte con Caetà e la Persson-Brid. Allo stacco emergono in lotta Nadal WF e Pietro Il Grande nei confronti di Perfect Photo e Niemen. Insista all'esterno Pietro Il Grande con lancio perentorio in 13-2. Riesce a superare Nadal WF che si adegua nella sua scia precedendo Perfect Photo, Niemen. Poi è ancora Petit Club, quindi Polka B, Persson-Brid, Perignon che cerca di recuperare all'esterno e supera Persson-Brid. E' buona però l'andatura imposta da Pietro Il Grande che di slancio completa i 600 iniziali addirittura in 43-6. Avendo in scia sempre Nadal WF, Perfect Photo, Niemen. Poi Perignon che cerca di progredire all'esterno di Petit Club. Ancora Persson-Brid a largo che lascia in coda Polka B. Mezzo miglio intanto in meno di un minuto per Pietro Il Grande seguito da Nadal WF. Quindi Perfect Photo che è raggiunta da Perignon. Si mantiene in vantaggio Pietro Il Grande al completamento del primo giro da 1-15-1. Nella sua scia sempre Nadal WF al sacchi del quale migliore ulteriormente Perignon che ha in scia Persson-Brid con all'interno Perfect Photo. Quindi ancora Niemen e Petit Club paletto dei 400 finali. Raggiunto da Pietro Il Grande in 1-29-2. Insista a largo Perignon mentre ha sbagliato Persson-Brid. Perignon che sopravanza Nadal WF e cerca di prendere contatto con il leader Pietro Il Grande. Più indietro Perfect Photo alla corda c'è Pietro Il Grande. All'esterno Perignon quindi Nadal WF. Poi ancora Niemen. Insiste Perignon all'esterno. Allarga ma sta passando nei confronti Pietro Il Grande. Lungo la corda Nadal WF. Nel finale Perignon che si impone di forza mentre Nadal WF batte all'interno. Pietro Il Grande per il posto d'onore con Niemen al quarto. 1-58-7 sul mio cronometro. 1-58-7 sul mio cronometro. 1-58-7 sul mio cronometro. Grazie.